buon pomeriggio a tutti ragazzi con questo video parleremo del ancora del 53esimo episodio scusate se non avete visto più video in questi ultimi giorni vero raga fra quel caldo e poi dispositivi sapete quando fa un caldo orrendo cosa succede se si utilizzano troppi comunque in compenso me lo sono fatto da solo le partite ho accumulato un sacco di anelli ora c'è anche un nuovo evento di rush agente delitto ho completato la meta però la meta completa la completo insieme a voi non perde questo episodio di sonic dash episodio 53 special 101 dal mission il portale siamo ancora forse in tempo per andare andare a salvare 101 cani perché sonic è un eroe però c'è un problema raga ci sono 19 ore se riusciamo a fare abbastanza così oppure potenzialmente possiamo raddoppiare anche l'ora che ne dite quindi vi auguro una buona visione raga si sto registrando ok eccoci qui ragazzi grande questo periodo che fa molto più caldo voglio vivo di un'altezza sapete quando sui 472 metri santa maria di goddio quindi non può arrivare un peggio di caldo e quindi per questo io non ne ho fatto video da cinque giorni raga cinque non vi preoccupate io non abbandonerò youtube d'accordo e grazie per gli altri iscritti che avevo diminuito ora siamo di nuovo a 104 continuate sempre iscrivervi e guardare il mio canale e purtroppo dobbiamo aspettare a solito siamo ancora nel regno dei funghi credo che non si sente no si sente ok avete visto ho fatto tutto da solo 180 siamo arrivati direi io che li ho fatto nelle serate perché io dormo all'aperto visto che può invocare vediamo giriamo anche la ruota della fortuna vediamo cosa mi dà saliamo di livello 32 fico meno un cinquecento e niente 946 prima di iniziare ragazzi tenevo a precisarvi una cosa torniamo qui indietro guardate quanto un sacco di lavori ci sono mi compenso cinque stelle no troppo troppo qualcosa a metà prezzo non c'è qualcos'altro e niente non c'è nient'altro vediamo cosa ci dicono le missioni distruggi i creme distruggi i cooper che sono dei piranha robot costruiti dal dottore ok facciamoci una giocata nel mondo dei funghi e sblocchiamoci anche rouge o forse la prossima volta andando facciamoci una giocata 418 420 no meno male c'era lo scudo 135 non raddoppiamo nulla del bonus e ecco cosa mi ha dato dieci anelli che mi interessa dieci anelli io penso 72 per 2 144 wow non mi ha detto niente la freccia ma perchè dieci non è giusto questo qua non è giusto bene un attimo notizio il bonus per tre il bonus ogni salto raddoppiamo prendi ok va bene frattempo qua quando siamo 7 minuti 7 minuti di registrazione ovviamente della registrazione è bisogno dai ma facendo sia la mia sigla e anche la presentazione credo che sia più di 8 minuti almeno credo ecco questo è il mio posto preferito un campo innevato perché dieci non è giusto per chi è dieci non è giusto e siamo andati a sbattere lo competiamo la prossima volta no aspetta continuiamo solo queste due stelle ma solo per continuare ok basta più io non ne spreco più sterile che devo essere rimasto fregato questo non è neanche giusto giusto? frega ti pareva 769 ok potenziamo tutti i personaggi e vediamo dove possiamo fin da arrivare e allora questo è il risultato avete visto 19 ore? 181 ok accontentiamoci ok ok perfetto ok 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 vittor dobbiamo potenziare Quando ho guadagnato Guardate raga E portiamo al massimo Il vantaggio di Victor Qui c'è Cream Portiamo il suo turbo Scatto al massimo Silver E passiamo all'evento 33 Saliamo Ma non abbiamo raddoppiato neanche un'ora Sprechiamo tutti questi Ovviamente Anelli 8 ok Metal Sonic E arriviamo anche da livello 34 Forse Ok Baby Sonic Successo un incidente ragazzi Aspettate Ok raga Si era capovolto il telefono Perché mi era caduto Continuiamo E purtroppo ragazzi Non mi bastano Non mi bastano ragazzi Troppo Sonic Troppo Sonic Ha fallito E direi che il video si possa concludere qui raga E ho fatto qualcosa in più Ma del resto niente E beh ragazzi Mi raccomando Mettete un bel like Seguite su Instagram Non ti indicare di cliccare qui Per iscrivervi al canale E qui Per non perdere gli altri episodi Dedicati al vostro world E BNT3 Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti